E' già stato accordo dalla regione e ha già dato un contributo, sul carto ovviamente perché i soldi arriveranno quando verranno fatti i lavori, un contributo importante per la vostra chiesa dei fatti, che è di 75.000 euro. Mi rilascio un attimo alle parole dei barri gallissimi, perché non mi hanno detto esattamente solo, però ricordo abbastanza. Perché mi sono piaciuto moltissimo le sue parole e mi è piaciuto che faccio l'architetto, quindi quando lei ha spiegato la costruzione della casa, il cemento che è l'amore, l'ho apprezzato molto. Però nessuno si è ricordato di ringraziare il geometra Tosato e tutti coloro che hanno realizzato questo lavoro materialmente, quindi le maestranze, l'impresa Martini, che è il mio carissimo amico, tutti coloro che materialmente non hanno realizzato. Io penso di interpretare il pensiero di Don Ulisse e l'assessore di tutti noi e ringraziarli ovviamente perché loro si hanno sudato questo intervento. Come sindaco dico che riacquistare questi immobili, poterlo offrire a tutti i nostri giovani e non giovani, è sicuramente una cosa graditissima. Quindi ringrazio Don Claudio, è stato il primo, e Don Ulisse è stato il secondo ad aver portato a termine questa opera. Grazie e avervi in questi parroci è veramente un gran piacere e un grande amore. Allora passiamo alla benedizione e al resto della festa che andiamo qui.